Nome? Mattia. Cognome? Massari. Età? 29. Città natale? Milano. Lavoro? Bartender. Classico o freestyle? Tutto e due, principalmente freestyle. Perché? Perché mi diverto, quindi ho una cicla, sì. Nome del tuo locale? Dove lavoro attualmente si chiama Cascina Campe. Cosa ti piace del tuo lavoro? Tutto. Hobby? Hobby, moto, principalmente moto, divertirmi tantissimo con la moto, andare in giro a fare il pazzo. Il nome del tuo cocktail? Absolute Enzenna. Perché dovresti vincere tu? Perché la prima gara mi servirebbe per spavarmi. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Ragazzi, cercate di aiutarmi un po' con i voti. Fai un saluto? Bella.